mezzana radio india delta 892 dal parcheggio punta brulla punta attesa 0 2 mezzana radio india delta 892 salina decolla pista 02 milano informazioni qui india delta 892 buongiorno india delta 892 milano buongiorno l'h16 india delta 892 h 1016 un trail ultralight avanzato due persone a bordo tre ore di autonomia 2000 nel box con piano di volo per volo locale da mezzanavigli a mezzanavigli via parma stimolo arrivo tra 60 primi 5 miglia nord est di mezzanavigli 2000 piedi prossimo riporto san nicolò che stima i 05 dopo l'ora san nicolò le 0905 mi confermi solo la quota grazie 2000 piedi india delta 892 2000 piedi ricevuto ci sentiamo su san nicolò riporto ora san nicolò india delta 892 danno informazioni india delta 892 attraverso i san nicolò stima castione marchesi ai 2.2 dell'ora ponte taro india 892 hanno stimato? ponte taro ai 2.9 dell'ora copiato riporti su ponte taro se è negativo con me con parma 127 275 127 575 se è negativo con voi riporterà a ponte taro india delta 892 è corretto india delta 892 milano puoi contattare parma 127 575 contatta parma 127 575 grazie una buona giornata parma approach qui india delta 892 buongiorno il delta 892 parma buongiorno vento variabile 5 nodi cavo ok temperatura 24 con 15 l'h1015 autorizzato all'ingresso del ctr posizione quota in questo vento in questo momento siamo prossimi a ponte taro attualmente a 1700 piedi sull'h in discesa verso i 1500 del 892 copiato da ponte taro autorizzato all'ingresso del ctr sarà sotto vento destro per pista 2.0 sotto vento destro per pista 2.0 india delta 892 del 892 mi puoi riportare le persone a bordo due persone a bordo del 892 copiato riporterà in sotto vento destro per pista 2.0 riporterà sotto vento destro pista 2.0 india delta 892 parma approach india delta 892 virando in sotto vento destro pista 2.0 attualmente a 1400 piedi si riporta a 1500 delta 892 ricevuto riporti nella base destra pista 2.0 riporterà base destra pista 2.0 india delta 892 parma approach india delta 892 virando in base pista 2.0 india delta 892 pista 2.0 ritratto dal touch in go evento 090 gradi 3 nodi iraner 46 charlie mike roger tako in touch and go in this moment, continuo di approcci e porto a final. Il cover è porto a final, man 4-6 e di mai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.